lol 2 dobbiamo fare ah comunque adesso si può sparare alle palle degli urlatori queste qua alle palle degli urlatori è brutto a dire però aspetta fa provare a sparare alle palle ma è impossibile prenderle aiuto 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 non è vero che si può sparare ahahah hai fatto la tua parte di assalto? ho fatto anche una trollata mentre facevo la parte di assalto guarda che bravo però italiani contro esci per favore ma cosa? po' collo mi ha scritto esci per favore esci uscite voi esci per il faro anche a me ma è serio? dietro dietro sto qua invisibile ha rotto il cazzo lo hai lì? si 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 martello niente vai cazzo dove è il martello? dietro di te vieni da noi vieni da noi porca vieni 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 come se Fresco énom non so se ti ne sai reso conto Eh, facevi il giro? Che giro che ce l'avevo davanti, Canos. Ma ne hai uccisi due, venivi a animarci. Ce l'avevo davanti la lama dopo che ho ucciso il secondo, non so se hai visto. Ma cosa dopo mezz'ora è arrivata? Ce l'avevo davanti, ho ucciso il secondo, mi son girato e c'era la lama. Eh. Eh. Sono stati 15 minuti. Ma che 15... Adesso mi tocca fare il coglione con Derin e dire PS no, PS sì. Stare chiedendo ma che cazzo sono... Ha ragione. È un effetto. PS, no PS. È per... Sincronizzare l'audio col video. L'audio col video. È tipo il Chuck dei film. Eh, in effetti il Chuck dei film fa sembrare molto più figo di quello che non sia. Beh, io continuo con la missione. Eh, ma... Ma guarda è caduta. Dove sto andando? Oh, giudice. E io mi seguivo pure. Ok, giusto. Entra, ah, entra. Ok. Cronota 2. C'è nel cerchio. Paura. Ah. Ah, proprio qua. Cioè morivi se non entravi. Only the every day. Ok. E poi? Eh, quindi? Eh. Eccolo. È qua. Oddio. È qua, è qua. È qua. Lol. Ecco. È tutto buio qua. Non vedo niente. Beh, figo. Diversa da solito. Sì, non si vede un cazzo, però... Sì. Oh, ma c'è la valanzia attiva. Perché? Perché non va? C'è una sopra valanzia attiva. È si è attivata adesso. Dopo il nuovo. Justamente. Oh, ma c'è la valanzia attiva.